Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un racconto che invita i lettori a esplorare un mondo incantevole attraverso gli occhi di una giovane protagonista. La storia ruota attorno al suo nonno e al legame affettuoso che si crea tra loro. La storia offre un'opportunità per i giovani lettori di sviluppare un senso di meraviglia e di affetto per la natura, oltre a incoraggiare il rispetto per il legame intergenerazionale con i nonni. La trama del libro Il profumo della grande estate, edizioni a colori di prugne e tibolt edito da Rizzoli, è la seguente. Ricordo la sua casetta che svettava in mezzo ai campi come un faro sull'oceano, le foglie del vecchio frassino che brillavano al sole, il profumo dei panni stesi ad asciugare in giardino, il ronzio delle api e il canto delle cinci allegre. Nonno Leon era una di quelle persone che vorrebbero che non cambi mai nulla. Che non desiderano ribaltare il mondo, ma soltanto viverci e ascoltarne il respiro. Mi chiamo Luis, e questa è la mia storia. Età di lettura a partire da quattro anni. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.